Conclusa la settimana e iniziamo il weekend Esattamente, quindi amici vi auguriamo La supercazzola era praticamente Ma questo è un programma che fa pure le supercazzole Sì, infatti Siamo diventati specializzati in questo Noi facciamo due ore di supercazzole Che meraviglia ragazzi, quanto amo questo lavoro Tu che fai adesso? Niente, vado in branda come gli anziani Vado in branda? Vado in branda Tu cosa fai? Sì, sì, ma partita così Ebbè, è tardi, sono quasi le 11 Quindi l'head show è diventato si ride per qualsiasi cosa È giusto, è giusto Che tu che fai Ale? Vado in compleanno, vedi come mi sono vestito carino Bello, preciso Ha un trentesimo, ancora mi aspettano i trentesimi Che meraviglia, vedi? Perché sei giovane Sei giovane È giovane quella che li compie Eh vabbè, tu pure La mia amica Donora, io Sì, sì, dai Sì, Ale, Ale Siamo belli operativi, no? Dobbiamo lanciare bei messaggi anche al prossimo Così arriva la ragazza Bravi ragazzi, sentitevi giovani fino a quando vi sentirete giovani Esatto È la supercazzola 2.0 ma che giusto in realtà Ora vengo di là, ora vengo di là Va bene amici, vi salutiamo, vi auguriamo un buon weekend Ci ritroviamo lunedì sera con Night Express dalle 21 alle 23 O anche domenica mattina dalle 6 alle 9 E quindi buon weekend a tutti, buon weekend a te Rebecca A tutti, grazie Ale, grazie al nostro Little Tony in regia Grazie al nostro Masino, grazie a tutti i nostri ascoltatori Un bacio grande e buon weekend Ciao a tutti Ciao Ciao a tutti i nostri ascoltatori Ciao a tutti i nostri ascoltatori